Per onestà intellettuale lui ha detto io ho un altro lavoro, lui sta lavorando e credo che abbia preso un importante incarico a Catania e quindi le due incarico e assessorato non sono compatibili, quindi per lealtà ne mi confrò, ha detto io mi dimetto perché non posso farlo. Non c'è nulla di politico quindi alla base un nome sindaco che potrà prendere il posto di bene. Ancora dobbiamo decidere la geografia, le attribuzioni, è un assessorato importante per l'ambiente, è una materia molto complicata, molto difficile, molto pesante, con grandi responsabilità, con anche altrettanti possibili fallimenti. L'assessorato dell'ambiente è un assessorato difficile, ma non l'ha fatto, cioè Dalbe è competente, non l'ha fatto perché anzi me l'aveva chiesto già tre mesi fa.